Colpo di scena in Colombia, gli elettori bocciano l'accordo di pace con le Farc. Con poco più del 50%, gli elettori contrari all'accordo di pace affondano l'intesa a frutto di tre anni di negoziati. I voti in favore dell'accordo tra il governo colombiano e le forze armate rivoluzionari di Colombia si sono fermati al 49,76%, poco meno dei 60.000 voti di differenza. Uno smacco per il presidente Juan Manuel Santos che vantava un'intesa capace di porre fine a 52 anni di guerra civile.